Cosa succede in città? C'è qualche cosa, qualcosa che non va Guardali, guardala, che confusione Guardali, guardala, che male è il tuo cazzo Cento giorni davanti alla fabbrica storie di uomini, lavoro e dignità E' il libro che Michele Stefanelli ha presentato presso la libreria Cossavella di Ivrea Un libro scritto in seguito a una vicenda personale Cosa ha la spinta a scrivere questo libro? Principalmente la rabbia e poi anche la voglia di testimoniare una situazione Che troppe volte si sta ripetendo in questo nostro territorio Naturalmente la nostra non è stata l'unica situazione Purtroppo se ne verificano tante Ma la nostra ha avuto la particolarità che aveva un carico emozionale particolare Perché quell'azienda non era un'azienda che era arrivata alla fine della sua vita Ma era un'azienda, perché questo è accettabile Se un'azienda finisce fuori dal mercato O non ha più, come dire, le risorse, le potenzialità per poter stare sul mercato Può essere accettabile, fisiologico, che quell'azienda possa anche smettere di esistere La nostra invece l'ha fatta per un determinato scopo economico Ed è quello di andare a guadagnare di più da un'altra parte E questo imbarba a tutti coloro che fino ad allora si erano dannati l'anima dentro i processi produttivi La Eton è stata un'azienda del canavese Che ha rappresentato una vera e propria epoca di storia Per il canavese così altrettanto la sua scomparsa ne ha determinato il declino Non è l'unica storia di azienda che ha chiuso in canavese Però è una storia emblematica di quello che poi è successo anche per altre aziende del canavese Qual è stata la storia della Eton? La storia della Eton è ancora perché è una multinazionale americana Che ha trovato sede a Rivarolo acquisendo la Livia E quindi era diventata la Eton Livia La Eton è una multinazionale appunto E acquisendo la Livia aveva posto le basi per avere un'azienda Che ha poi vissuto dagli anni 60, dagli inizi degli anni 60 Fino al 2006 che è stata quella di Rivarolo Intendo dire la sede di Rivarolo Ha costruito la sua fortuna in Italia e in Europa Perché con quell'azienda lì la Eton ha costruito una moltitudine di altre aziende Sia in Spagna anche in Italia Altre tre o quattro aziende in Italia Poi in Germania e poi in tanti altri posti E quindi come dire Noi eravamo la sede madre E purtroppo come spesso succede I figli divorano la madre Perché gli investimenti non erano più stati rinnovati E si è lasciato decadere un po' alla volta Insomma quella situazione Questo era un declino annunciato? Lo è stato dopo il 2000 Dopo il 2000 noi abbiamo cominciato a renderci conto Che quell'azienda lì non voleva più stare in Italia In effetti quando ne abbiamo avuto la consapevolezza Ci siamo messi di traverso tutta l'operazione Che hanno tentato di fare Ci siamo messi di traverso come sindacato Naturalmente pagandone dei prezzi altissimi Perché una parte di dipendenti Che sono stati riassunti nell'altra sede di Mosconero Invece tutti gli altri hanno dovuto cercarsi un altro lavoro La verità è che alla fine di tutta quella vicenda Un gruppo nonostante quell'accordo Che desse un po' di soldi Una manciata di soldi ad ogni persona Circa 80 persone sono finite nella precarietà più assoluta Soltanto una ventina hanno trovato un lavoro E gli altri come me Che erano vicini al pensionamento Insomma hanno potuto usufruire di questo paracadute Si chiama così oggi Quello che raccontava Quello che racconta nel libro È che un grosso punto debole Che si è verificato in questa situazione Un grosso punto debole per voi Ma che è stato poi il punto di forza dell'azienda È stato il fatto che si è creata una rottura Proprio tra impiegati e operai all'interno dell'azienda Non soltanto una rottura fra impiegati e operai La rottura maggiore è stata fra i sindacati Perché c'è stato tra le tre confederazioni Perché erano tutte e tre presenti all'interno dell'azienda Perché c'era una parte che pensava che quell'azienda potesse essere ancora salvata E quindi regalando accordistiche di favore E mentre in effetti non c'era più niente da fare Perché sono decisioni che non potevano Noi abbiamo tentato in qualsiasi modo di cercare di trattenerla lì Di farla ricevere Purtroppo non abbiamo avuto l'aiuto Tendo a dire noi Tendo a dire FIOMO Ma intendo a dire un ragionamento che ha avuto tutta la CGL intera Cercando di mantenere quell'azienda ancora all'interno del territorio cannavesano Purtroppo le cose non sono andate così Perché noi sapevamo esattamente che se fosse arrivato a una conclusione Quella che poi è stata Non ci sarebbe più stato futuro Né per noi né per l'eito né in Italia Difatti dopo la nostra azienda hanno chiuso anche quella in Spagna E poi hanno chiuso un altro stabilimento a massa Attualmente l'eito né presente in Italia Soltanto più con due stabilimenti Prima erano cinque Ah, dimenticavo anche l'Amtec Coloro che si sentivano intoccabili Che fine hanno fatto? Una parte comunque sono rientrati Purtroppo le differenze sindacali hanno fatto Non è stata fatta neanche una selezione dal punto di vista della bravura Se vogliamo essere così mengheliani Chi aveva una certa copertura sindacale È finito, è riuscito a ripararsi a Bosco Nero La stragrande maggioranza delle persone comunque Hanno dovuto recedere dal pensiero di poter rientrare in fabbrica Naturalmente non potevano essere assorbiti di nuovo tutti Cosa racchiudono questi cento giorni raccontati nel libro? La storia degli uomini La storia degli uomini, delle donne, delle ragazze madri E delle aspettative di quelle persone Che avevano riposto sul loro futuro È una storia molto dolorosa La storia della vicenda della chiusura della Eton a Rivarolo Non ha determinato solamente una grossa problematica Per tante famiglie e tanti dipendenti Che hanno perso il posto di lavoro Ma è stata quasi proprio una tragedia per l'intero territorio canavesano Una fabbrica che ha determinato la storia del canavese E che poi allo stesso modo ha visto il declino di una parte del canavese Qual è stato dal punto di vista sindacale questo declino della Eton? La Eton non era solo una fabbrica Era la fabbrica Nel senso che questa grande multinazionale 40 anni fa aveva deciso di impiantare uno stabilimento Che era diventato la principale azienda del territorio Con più di mille dipendenti Ma anche con delle condizioni di vita E delle situazioni economiche d'avanguardia La crisi della Eton non è che nasce nel momento in cui L'azienda ha decchiso di chiudere l'attività I lavoratori hanno picchiettato per 100 giorni l'azienda La crisi della Eton nasce a partire dal Credo circa 1980 Nel senso che in quegli anni c'è stata la grande rivoluzione economica mondiale La globalizzazione ha cominciato a muoversi e a decollare con grande forza E le grandi multinazionali hanno cercato di trovare dal punto di vista del mercato Le soluzioni migliori che gli garantissero capacità produttiva molto alta A condizioni più favorevoli Da quegli anni lì comincia, come in tante altre aziende del canavese Il declino dell'azienda con lenti e piccoli scossoni Quindi la chiusura di alcuni riparti, il ridimensionamento di altri E la Eton lentamente passa da 1200 dipendenti agli ultimi 300 Quindi l'evoluzione, la crisi della Eton ha la stessa parabola Della crescita esponenziale della globalizzazione nel mondo L'ultima battaglia, appunto quella che poi ha portato alla chiusura della Eton E' stata l'idea di trasferire le ultime attività in uno stabilimento vicino Che era Bosco Nero e Alte, di delocalizzarle in Polonia Quindi questa è una vicenda drammatica che sta nel solco di un'economia Che sempre di più cerca le opportunità dove il costo del lavoro è più basso Dove le condizioni sindacali sono diverse Dove i lavoratori si accontentano di meno soldi E sono disposti ad accettare condizioni più gravose E' un segno dei tempi Però questo non si sconfigge come io credo stiano pensando gli imprenditori italiani